se mai mi sapevo ho fatto una scimmia di un canale guarda guarda per il suo amare mappure marzo non ha fatto ma sta bene finisce per tolto tutto fa dopo questo non c'è non so ma con le mani no il terzo da un uomo che chiama posta nessuno c'è il suo compagno di un canale ma non c'è con lui con base a casa ma se non lo vediamo se si racconta di più ecco suona che arriva tu suonare per cercare boccasciate carlo Rimetti da capo E ora si muove